Ci troviamo a Castione della Presolana nella Valle dei Mulini dove da tempo il signor Sergio Percassi che qui con noi ha allestito un museo. Partiamo dalla struttura che ospita questo museo che è un mulino e raccontiamo un po' la storia di questo mulino. Sì, effettivamente si parla del 1500. Era nata come segheria questa casa che però subito negli stessi anni hanno messo anche la parte mulino. Nella parte segheria diciamo che purtroppo quella è andata persa subito, non ci sono più particolari. Come mulino fortunatamente ci sono riusciti a recuperare la parte storica, le macine che qui noi abbiamo, tutta la serie di trasmissioni che porta il movimento alle macine e di conseguenza loro abbiamo recuperato questa parte che è la parte veramente storica e poi portando un'infinità di attrezzi che noi abbiamo sempre recuperato e sto ancora recuperando. Abbiamo allestito il museo completo. Vedo anche che da parte dei visitatori perché noi facciamo visite guidate gratuite, gente che arriva, turisti e non turisti, arrivano tutti entusiasti, vedono anche perché ci si spiega tutti i particolari, tutte le cose che abbiamo e vedo che apprezzano e di conseguenza siamo contenti anche noi perché rivalutiamo sempre di più questo posto che è in un posto un po' particolare, fuori dal mondo però in centro del paese perché giustamente è anche così. Abbiamo lasciato i luoghi con i macchinari del vecchio mulino e siamo nella parte della struttura dedicata più a museo, una parte che ha ospitato anche per anni un ristorante. Adesso invece vediamo tantissimi oggetti in questi spazi, oggetti che lei ha raccolto in lungo diversi anni e ci vuole parlare un po' di questa passione e degli oggetti che troviamo qui. Sì, giustamente, ecco abbiamo visto prima la parte diciamo storica proprio del mulino antico e poi giustamente come abbiamo visto anche con altre riprese ci sono un'infinità di attrezzi, attrezzi che ricordano i vari lavori. Qui siamo nel punto dove raggruppando più tanta roba possibile abbiamo i lavori che vanno dal contadino all'alfalegname, c'è quello delle macchine per cucire, ci sono la lavorazione della lana, una serie anche di fotografie di tutti i personaggi ancora qui di Castione. Sono tutte cose che piano piano, piano piano io ricerco sempre. Infatti mi dicono che sono uno stracivendolo dell'azienda perché io continuo a recuperare e oltretutto è bello anche il fatto che arriva gente a vederci e poi dicono anche io c'ho quella roba qui non so più cosa fare e ce la portano. E questo addirittura potrebbe essere un'idea per buttare se qualcuno ha della roba che non uso più, che vuole portarla al museo, siamo ben contenti di esporla. Qui noi abbiamo giustamente tutte queste cose che ricordano proprio i lavori di una volta, che sono cose, non ci sarà un valore effettivo, però un valore storico, un ricordo di come le nonne e i bisnonni lavoravano per darci poi giustamente tutto quello che ci è andato. Questo qui è un piccolo angolo che secondo me è proprio la realtà del passato, è quello sicuramente importante.